Buongiorno dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Nicola Giannattasio. Trafficò il momento regolare su tutta la rete stradale ed autostradale della Toscana. In A11 il personale su strada tra l'allacciamento a 12 Pisa e l'allacciamento a 12 Lucca in direzione Firenze. Sulla statale 1 Aurelia, scambio di carreggiata per lavori tra Scarlino Scalo e Rio Torto in direzione Cecina. Sulla statale 3 Bis Tiberina, riduzione di carreggiata per lavori tra Val Savignone e Canili. Sulla statale 12 e della Betone e del Brennero, senso unico alternato per lavori tra bagni di Lucca e fabbriche. A Firenze per i lavori della tramvia fino al 10 agosto, chiusa via Valfonda per rifacimento di carreggiata e marciapiedi. Moversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio! Buon viaggio!